L'opinione pubblica percepisce una situazione di disagio, complessive, come se vivesse all'interno di una bolla dove vede che si estranea da una realtà che vuole disconoscere, nel senso che è una bolla dove tutto aumenta come prezzi della benzina, della bolletta, il costo delle case, gli alimentari, non si sa la ragione perché è stata imputata prima la guerra in Ucraina, poi agli UTI, poi alla guerra in Israele, insomma c'è una situazione di disagio generale e di sconforto che opprime la popolazione e quello che è più grave da questo punto di vista è il fatto che non si legge un way out, questo però non lo leggono nelle chiavi del governo, è qui la situazione che non si incardina sul valore politico, perché è come se ci fosse una situazione generale legata anche all'Europa, non le vedono più come una scelta politica ma la vedono più come una scelta di incompetenza che si è accumulata negli anni e quindi questo ha allontanato la gente dalla fiducia alla politica, ha allontanato la gente dal voto perché pensa che non ci sia una risoluzione utile in quella direzione e solo grandi sostenitori hanno portato, non a caso ad esempio, riflettete un attimo sul caso ad esempio di Elie Schlein che ha cambiato un partito, l'ha portato in una modalità nuova e nelle elezioni europee che hanno sempre un valore per l'italiano un po' inferiore rispetto a quello nazionale, hanno dato prova di coraggio e di invoglio, hanno detto va bene, noi ti premiamo, vediamo dove porti il tuo cambiamento perché lei non c'era quando ci sono state tutte le precedenti, ecco che l'incarico di chi sta al governo adesso è quello di infondere fiducia su una situazione che è veramente, viene letta come se fossimo all'interno di una bolla e questa bolla non scoppia e la paura è quella che oltre a non poter pianificare un futuro nel momento in cui scoppia può creare dei danni molto importanti. Certo, è interessante.